Sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati tanti casi di problemi nei bilanci delle squadre, un controllo esterno non sarebbe una garanzia in più o invece no? Perché? Ma non è un controllo esterno, è un controllo del governo, è una cosa diversa. E' preoccupato dalla proposta di riforma che metterebbe i controlli dei bilanci dei club fuori dal controllo? Non è una questione di preoccupazione, è inutile che io dica la mia opinione, abbiamo votato tutti all'unanimità che siamo assolutamente contrari e siamo evidentemente per l'autonomia dello sport che deve essere separato dalla politica. Perché secondo lei il governo ha fatto questa che voi considerate una forzatura, mi sembra di capire, ha fatto, ha in animo di fare? Io direi che la domanda vada fatta a chi l'ha pensata questa cosa, non a me. Sappiamo che negli ultimi anni ci sono stati tanti casi di problemi nei bilanci delle squadre, un controllo esterno non sarebbe una garanzia in più o invece no? Perché? Ma non è un controllo esterno, è un controllo del governo, è una cosa diversa.